Palla al volo di Arnetoli, poi tutto solo Menci e c'è un salvataggio, c'è un salvataggio, Arezzo ha un passo dal gol, palla che arriva dentro, c'è il colpo di testa e il vantaggio, vantaggio del Siena, dovrebbe aver colpito Sisinni, ha messo in rete proprio Sisinni, colpo di testa e il Siena va in vantaggio al 31esimo minuto, Sisinni, lo stacco preciso che ha finito alla sinistra del portiere dell'Arezzo, Sacchetti. Oksai, limite a spazio della conclusione aperta, Oksai, grandissimo intervento di Sacchetti su Oksai, va Bagontini, battuta col destro, traversa, traversa clamorosa di Bagontini, Siena ha un passo, ha un soffio dal 2 a 0, grandissima punizione di Mattia Bagontini-Canapini, buon varco di Canapini, buon pallone recuperato, lo gira bene Fabianelli, attenzione Fabianelli, parte Tiro, tutto solo, Sinani, Sinani dal fondo, lo rimette in mezzo, scavalca tutti Fabianelli dal fondo, palla a metà strada, c'è un colpo di testa in rete, il raddoppio, raddoppio del Siena, Rocchetti, Rocchetti è andato a staccare e a portare sul 2 a 0 il Siena, di fatto a chiudere la partita, colpo di testa in mischia di Rocchetti, cola su Bagontini, destro di Bagontini, grandissima pagata, non è finita, c'è Cossa, la rimette in mezzo, la battuta in profondità sulla quale c'è il fischio finale, vince il Siena 2 a 0 questo derby del campionato Under-15, giovanissimi, 6-C, un gol per tempo, Baghezzo che aveva fatto sicuramente un'ottima prestazione nella prima fase, nel primo tempo il gol aveva trotto il Siena con il colpo di testa sugli sviluppi di una punizione di Sisini, poi nella ripresa Baghezzo è stato abbastanza ingabbiato dal Siena che ha tenuto l'1 a 0, ha sfiorato in un paio di circostanze il raddoppio, nel finale due o tre fiammate del Baghezzo che potevano anche portare, se sviluppate, in modo diverso al gol dell'1 a 1, invece è arrivato il 2 a 0, sempre di testa, questa volta da parte di Rocchetti. Per Baghezzo dunque è la terza sconfitta di fila, Siena che invece ritrova il successo, Siena che sale in classifica a quota 13, l'Arezzo rimane nei bassi fondi a quota 8, adesso sentiremo tra poco l'allenatore Dante Gioacchini. Iniziamo al mister Dante Gioacchini, abbiamo visto al di là del risultato dei passi in avanti della tua squadra, soprattutto nella prima frazione. Sì, è un risultato non veritiero per il gioco espresso in campo, sono contento per la prestazione, purtroppo abbiamo commesso degli errori con le palle da fermo e quindi abbiamo preso due gol, però per il resto è una buona partita. Si vede che i ragazzi provano sempre la giocata a palla a terra, quello che poi immagino tu chiedono. Sì, no, no, sotto il profilo della prestazione, sia singolarmente che a livello di squadra, è stata positiva. Qualche ragazzo non ha dato il giusto apporto, bisogna sempre lavorare, crescere, lavorare e crescere. Ecco, due gol molto simili, si può dire, subiti. Sì, due disattenzioni di due ragazzi sugli avversari e abbiamo preso due gol, purtroppo non dovrebbe capitare ma è caduto. Riccato nel finale che ci sono state due o tre azioni con il laghezzo che era quasi in superità numerica nell'area del Siena. Sì, abbiamo avuto sia il primo tempo che alla fine quello che hai detto te, diverse occasioni, purtroppo non l'abbiamo messa dentro e va bene così. Tanto l'obiettivo è farli crescere il prima possibile, sotto il profilo del gioco ci cominciano a essere dei miglioramenti importanti, bisogna lavorare sulla concentrazione e l'attenzione.